Come è importante? Come è importante perché giochiamo per la prima volta davanti ai nostri tifosi, ci teniamo a far bene perché dobbiamo dar seguito alla prestazione domenica scorsa e credo che domani ci siano le condizioni per poter fare questo. Ci fa piacere di trovare un buon campo, al di là delle difficoltà iniziali per come era messo, i presupposti ci sono tutti. So che incontreremo una squadra difficile, una squadra che viene da un periodo forse non positivo, dopo la prestazione domenica scorsa ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda loro. Su questo dobbiamo essere molto pronti, ma è particolare perché l'anno scorso abbiamo vissuto un'annata importante, abbiamo fatto bene al di là di quelle che erano le aspettative iniziali. Però come ho già detto domani la partita è campobasso notaresco, non sarà sicuramente la partita di ex. Ci teniamo a far bene, ma al di là dell'avversario che abbiamo di fronte. Ho la fortuna di avere tutti a disposizione, quindi di questo sono contento. Man mano abbiamo recuperato tutti gli acciaccati che avevamo, quindi ampia scelta. Al di là di chi va in campo, l'ho già anche detto, è lo spirito di squadra che ci deve contraddistingue. Le qualità le abbiamo, quindi l'importante è farsi trovare pronti sia fisicamente che mentalmente. Sì, potrebbe essere un fattore importante. Noi soprattutto che veniamo, come ho già detto, da un precampionato non continuativo come qualità di amichevoli, quindi sì, una strada facendo, giocando domenica per domenica, la condizione sarà sempre migliore. Quindi anche domani ci auguriamo che sia migliore di quella di domenica scorsa. Lavoriamo per questo, ma vi c'è da dar tempo noi, come tutte le squadre, di adattarsi ai ritmi e ai carichi.